Salve a tutti, sono Marco Casari e benvenuti a questo nuovo video di analisi tecnica, della newsletter di analisi tecnica settimanale. Voi so che non potete vederlo, ma qui alla mia destra ho un balcone che dà su una pista ciclabile, una magnifica pista ciclabile e ogni weekend sono affascinato dal vedere come le persone si allenano a qualsiasi ora e quindi la costanza, la perseveranza di persone che continuano nel loro allenamento e ovviamente lo faranno per ragioni di salute, per ragioni di estetiche, per mille ragioni ma la cosa su cui voglio soffermarmi questa settimana è proprio la costanza e la perseveranza e lo fanno oggi una splendida giornata qui a Roma, dico la verità, è praticamente iniziata la primavera alla grande siamo già sui 23, penso 22-23 gradi, quindi è molto piacevole stare sulla pista ciclabile e correre ma vi assicuro che le persone che vedo farlo durante l'inverno, quando piove addirittura commentavamo l'altra volta proprio il giorno dopo Natale, il 26 mattina persone che continuavano ad allenarsi dopo i bagordi del 24 e del 25 dicembre e quindi veramente questo è l'esempio di come anche nel trading lasciatemi questa metafora, spesso faccio metafore tra sport e trading perché credo che le caratteristiche che sono richieste ad un trader professionista siano estremamente simili dalle proprietà, dalle caratteristiche che sono richieste ad uno sportivo che si allena a livello amatoriale, addirittura a livello professionale e una di queste caratteristiche è proprio la costanza e la perseveranza ecco perché nel trading bisogna sapere aspettare, bisogna anche nei momenti difficili in cui sembra che non ci siano segnali o quando invece ci sono tanti segnali ma i segnali non vanno come dovrebbero perché alla fine l'analisi tecnica ci dà degli strumenti per cercare di prevedere e capire come si potrebbe muovere il mercato nel futuro basandosi su uno studio del passato ma non è detto che poi quelle previsioni in quanto tali si avvereranno necessariamente quindi avere la costanza comunque di andare avanti in situazioni difficili con una volontà ferrea, continuare ad applicare le strategie, continuare a fare analisi continuare a guardare che cosa ci dicono i mercati cercare di prevedere e ipotizzare quello che potrebbe essere la mossa successiva e farlo però in maniera costante sapete molti trader alla fine smettono di fare trading non solo perché magari non riescono ad essere profittevoli ma perché fanno trading una settimana e ci si dedicano tanto poi la settimana successiva smettono poi per un mese ci stanno tutti i giorni e passano le ore davanti ai grafici e il mese successivo non ci pensano più, non aprono più un grafico bene questa incostanza non può portare a profitti nel medio e lungo termine noi invece come trader dobbiamo essere costanti dobbiamo applicare le nostre strategie, aspettare i segnali giusti e farlo in maniera continuativa solo in questo modo possiamo fare del trading un business che crea entrate aggiuntive in maniera appunto costante e continuativa perché vi sto facendo questo preambolo? perché partirò proprio dallo studio questa settimana dell'euro-dollaro che insomma è un mercato che ci sta facendo un po' penare perché non si capisce bene da dove debba andare a finire ormai sono più di 20 mesi che è incastrato in un canale continua a rimbalzarci adesso sono una decina di mesi che ha creato un canale più piccolo all'interno di questo canale il prezzo sta rimbalzando ogni volta che arriva delle soglie psicologiche non riesce a superarle ci sta dando dei segnali di pattern di analisi tecnica ma non riesce mai a completarli non riesce mai a fare il breakout e quindi bisogna avere costanza bisogna avere costanza come queste persone che si allenano qua sulla pista ciclabile tutti i giorni tutte le settimane anche quando è festa continuare ad andare avanti studiare i mercati fare analisi e alla lunga vi assicuro che se avete strategie robuste sapete esattamente quello che state facendo come lo state facendo verrete premiati bene basta parlare vi lascio agli esempi pratici grazie a tutti per la partecipazione siamo diventati ormai tantissimi in questa newsletter se non l'avete fatto vi consiglio di andare sul mio canale youtube e fare clic su subscribe in modo tale da essere notificati ogni volta che faccio un nuovo video ne preparo circa 3 o 4 a settimana quindi se siete solo iscritti a questa newsletter andate pure sul mio canale di youtube mi trovate su youtube se cercate Marco Casario quindi è molto semplice ci sono tantissime idee, spunti e informazioni che sono sicuri vi saranno utili e tutto quanto gratuito ovviamente bene vi auguro un fantastico weekend ci vediamo la prossima settimana vi lascio agli esempi pratici e agli studi di questa newsletter ciao allora cominciamo proprio quindi dal forex e dal mercato dell'euro e del dollaro perché come vi dicevo prima nell'introduzione questo mercato guardate metto un attimo il settimanale passo al time frame settimanale sta insistendo all'interno di questo canale vedete queste linee orizzontali azzurre che ho tracciato bene il prezzo qua ci si è incastrato pensate già a inizio 2015 febbraio 2015 dopo questa grossa discesa che praticamente è cominciata nel 2014 maggio 2014 poi il prezzo non ha fatto altro che rimanere qui dentro quindi parliamo di praticamente due anni più di due anni di rimbalzi e poi che cosa è successo? poi si è in realtà incastrato schiacciato verso il basso vedete qua il prezzo ha compresso verso il basso e da quando? novembre 2016 quindi insomma svariati i mesi stiamo parlando di 2016 ottobre novembre stiamo parlando di almeno 5 o 6 mesi in cui il prezzo si è posizionato all'interno di un altro canale più piccolo guardate metto il giornaliero lo vedete meglio eccolo qua si è incastrato qui dentro in questo secondo canale che va dall'1.08 fino ai minimi diciamo che sono stati toccati a inizio 2016 tra la fine del 2016 scusate inizio 2017 questi minimi qua e l'appunto la soglia psicologica 1.08 e qui che cosa sta formando il nostro euro dollaro? tanti segnali a dire la verità segnali che però è come se non venissero riuscissero poi ad essere completati o c'è sempre qualcosa che non sembra che non voglia far diciamo così prendere un trend ben definito all'euro dollar farlo uscire in questo da questo canale da questi due canali ormai su cui rimbalza e letteralizza guardate vi faccio vedere che cosa ha formato qua un testa e spalle non bellissimo a dire la verità questa guardate questa è la prima spalla poi abbiamo la seconda spalla qui e la testa ovviamente un po' più sotto quindi non è il massimo dal punto di vista geometrico così diciamo di questo pattern di analisi tecnica e dove sta la neckline allora la neckline la potremmo disegnare in maniera ecco qui diciamo la disegno così in rosso in maniera ignorando questo spike molto profondo e quindi la rottura praticamente non c'è stata vedete che anzi il prezzo che ha fatto ci si è proprio appoggiato e sembra aver rimbalzato infatti questa settimana è arrivato ad 1.08 per poi tornare in giù ha sentito quella soglia psicologica però nel caso in cui la rompesse bisogna stare fare attenzione a questa neckline qua io infatti vedete nel mio grafico mi sono messo un bel alert che scatta nel momento in cui il prezzo arriva a 1.0825 e poi che cosa si è formato guardate fatemi tracciare un attimo delle linee di Fibonacci perché mi sembra proprio di vedere allora fatemi vedere qua e infatti si si è no si potrebbe non si è assolutamente formato quindi non è stato ancora validato si sta per formare si potrebbe formare questo pattern armonico è un bet pattern che si completerà qui sopra e manca ancora molto perché praticamente dovrà avvenire la rottura della neckline e poi arrivare qui sopra questo è un ribassista diciamo come pattern ed è interessante perché potrebbe riscendere e usare la neckline questa volta come supporto per poi proseguire al rialzo però purtroppo ragazzi euro dollaro veramente non non ci sta facendo capire bene molto che cosa vuole fare tanta indecisione ce lo dimostra questa indecisione come in questi due anni il prezzo sia stato lì dentro rimasto bloccato in quei canali e noi staremo a guardare pazienza costanza come vi dicevo prima noi continuiamo a guardare i segnali che ci vengono dati non affrettiamo nessuna entrata nessuna ipotesi noi guardiamo quello che ci dice la price action quello che ci dice il grafico perché è l'unico modo l'unico strumento che abbiamo per cercare di prevedere quella che potrebbe essere potrà essere la prossima mossa bene a proposito di prossima mossa andiamo a parlare invece del CL del crude oil quindi mercato delle materie prime andiamo a vedere il petrolio perché il petrolio diciamo che la mossa l'ha fatta l'ha fatta anche in maniera piuttosto importante robusta perché guardate che cosa ha fatto qua il petrolio ha rotto questo triangolo simmetrico in realtà aveva fatto una cosa prima ci aveva dato un falso segnale aveva formato un testa e spalle sul settimanale eccolo qui molto ampio vedete questa celeste che avevo tracciato era la neckline e c'era stato un un breakout un breakout interessante che poteva far pensare al petrolio che poteva ritornare insomma sui 60 dollari invece che cosa è successo è successo che il prezzo è tornato indietro e praticamente non ha fatto altro che creare questo triangolo simmetrico triangolo simmetrico che se avesse seguito il testa e spalla di inversione avrebbe dovuto vedere una rottura verso l'alto invece che cosa ha fatto ha rotto verso il basso qui c'è stata una news economica ha rotto verso diciamo una notizia sul petrolio sulla produzione del petrolio il petrolio è crollato praticamente da 53 dollari e qui stava è arrivato a toccare i 47 dollari non è sceso sotto i 45 non è ancora detto che non ci arrivi però diciamo che la soglia dei 45 l'avevo segnata con questa linea era una soglia importante perché era il momento storico in cui l'OPEC l'organizzazione che controlla la produzione mondiale nel petrolio era riuscita a trovare un accordo sul taglio di produzione del petrolio quindi che succede se una materia prima taglia la produzione il prezzo aumenta infatti guardate qua che bell'aumento che c'era stato queste tre candele che avevano poi visto la rottura del test e spalle e adesso sembra che stiamo tornando su quella su quella soglia lì di prezzo insomma stiamo sui adesso siamo sui 48 dollari ha chiuso a 48 dollari qua guardate si potrebbe potrebbe essersi formato un andiamo su 4 ore un diamante un diamond figura tecnica insomma anche un po' rara però fatemi vedere se qui ce l'abbiamo allora da qui a qui facciamo le blu perché altrimenti queste linee rosse non vorrei che vi preoccupino da qui a qui da qui a qui si non è bellissimo dal punto di vista geometrico però no non ci sta non ci sta non ci sta nessun diamond ragazzi quindi quindi qua non abbiamo visto altro che la rottura di questo triangolo simmetrico ecco forse quello che possiamo vedere tornando sul giornaliero se non volessimo vedere questo triangolo simmetrico potremmo vedere questo triangolo discendente ok che infatti è stato è stato rotto e adesso anche qua la mossa è stata fatta bisogna vedere quanto il petrolio sarà in grado di continuare il suo trend ribassista magari si andrà ad appoggiare qua intorno ai 45 dollari anche qua rimaniamo in attesa rimaniamo anche sul mercato delle materie prime andiamo a vedere il live kettle ne avevamo parlato un po' parecchie settimane fa ormai il live kettle allora andiamo a vedere un attimo qui si mi ricordavo che c'era un testa e spalle non bellissimo come al solito dal punto di vista geometrico ma sempre un testa di sempre un testa e spalle si trattava eccola qui guardate la testa questa era la prima spalla quindi spalla di destra di sinistra piuttosto corta a dire la verità e questa era la seconda spalla che invece era decisamente più più ampia la neckline poteva essere disegnata in questo modo e qua vedete che c'era stato un primo breakout subito rientrato e qui adesso sembrerebbe che siamo in prossimità di un nuovo breakout bisogna ovviamente stare attenti a che cosa a questa struttura qui qui c'è una struttura di prezzo importante che era stata usata come resistenza eccola qui la traccia di verde infatti non a caso qui alla prima rottura al primo breakout il prezzo è tornato indietro vediamo che cosa che cosa farà il live cat anche in questo caso bisogna stare a guardare qui comunque gli spazi per una crescita una volta che questa struttura viene superata ci sono ce ne sono molti io quando le neckline cascano su strutture di prezzo come in questo caso vedete che praticamente la neckline casca su questa struttura tendo ad aspettare prima di entrare al mercato tendo ad aspettare la rottura anche della struttura quindi preferisco perdere qualche punto sull'entrata piuttosto che entrare ed essere aggressivo qui avrei preso per esempio uno stop loss perché qui c'è stata rottura non sono entrato perché non mi sono fidato avendo visto questa struttura ho aspettato ho fatto bene perché il giorno dopo guardare che cosa è successo sul mercato bene quindi anche il live cattle volevo farvi vedere a proposito di test e spalle ce ne sono veramente tanti sul Deutsche Bank Deutsche Bank eccola qua DB quindi titolo azionario DB fatemi vedere già ce l'ho DB eccola qua ok sul settimanale avevo visto esatto qui anche c'è stata una quasi rottura che però si è trasformata in realtà guardate ve lo disegno intanto prima spalla seconda spalla e testa questa è la testa del nostro test e spalle e qui aveva provato a rompere però non c'è non c'è riuscito neckline bella perché è orizzontale quindi neckline statica e non dinamica vedete come il prezzo ha provato ha provato adesso sta sta ritracciando anche qui alla rottura ci possiamo aspettare una bella cavalcata perché guardate dove sta la prossima struttura di prezzo insomma ce n'è una qui ce n'è un'altra qui sopra più forte però parliamo di di una rottura che avviene ai sui 21 dollari 20 e 67 prima struttura a 27 quindi sono 7 punti seconda struttura a 35 sono altri 7 7 punti quindi molto interessante qua però bisogna rimanere a guardare perché insomma sapete che la Deutsche Bank non se la passa proprio benissimo e rimaniamo un attimo sull'azionario perché volevo farvi vedere anche che cosa sta combinando Tesla perché se vi ricordate vi avevo tempo fa parlato di Tesla e vi avevo detto come era sarebbe potuto essere interessante lo vedete meglio sul giornaliero ecco qui sul giornaliero un rientro dei prezzi avevo segnato qua come prezzo di 2,40 purtroppo il prezzo non c'è mai rientrato ma vedete che il 240 dollari era una insomma una struttura di prezzo piuttosto importante il prezzo l'avevo usata come supporto e poi come resistenza più volte nel passato e anche qui praticamente ci è andato vicinissimo perché è arrivato a 2,41 e poi adesso sembrerebbe aver rimbalzato quindi staremo a vedere se riuscirà ad arrivare ai massimi dei 286 dollari però Tesla è sempre un titolo azionario che tengo sotto controllo andiamo a vedere che sta combinando il dollaro invece l'indice del dollaro perché vi ricordate settimana scorsa proprio ne avevo parlato e vi avevo fatto vedere come aveva formato questo test test e spalla di inversione e non era ancora stata rotta perché qui la neckline era piuttosto guardate questa è la neckline quindi ancora manca un po' la rottura però vi avevo detto attenzione perché in realtà questa riga blu che vedete qua era una neckline di questo precedente test e spalla di inversione quindi il prezzo potrebbe semplicemente stare a rimbalzare qui sopra qui le letture sono molteplici entrano anche diciamo caratteristiche o considerazioni di analisi fondamentali sul dollaro adesso sapete col nuovo presidente con trump c'è chi dice che il dollaro affosserà parecchio però qui ci potrebbe essere un ABC di pattern guardate allora fatemelo disegnare più blu vedete questo impulso ribassista outside return quindi pullback di mercato che dovrebbe essere arrivato intorno al 61.8 di fibonacci fatemi tracciare l'ha sfiorato il 61.8 vedete tra il ritracciamento 0.50 e il 0.61.8 perfetto e qui che cosa ci aspettiamo faccio ctrl c e ctrl v di questa linea e i BCD pattern ci potremmo aspettare un ribasso con la stessa profondità della prima gamma e dovrebbe cascare proprio tracciando l'estensione questa volta di fibonacci tra il 141 il 141 e il 161.8 infatti vedete questa gamba arriva proprio al 141 quindi questa potrebbe essere il prossimo movimento se dovesse continuare a ribasso viceversa se dovesse invece rimbalzare su una neckline potremmo vedere il dollaro che torna a superare i suoi massimi di 12.626 quindi anche molto importante per il nostro ragionamento iniziale sull'euro dollaro vedere che cosa farà l'indice del dollaro l'indice del dollaro è un indice nei confronti è un paniere che contiene varie valute al suo interno quindi è un indice di sintesi molto importante bene ragazzi vedete che cosa vuol dire avere pazienza e costanza fare analisi settimana dopo settimana e raccontare la storia che ci raccontano i grafici delle materie prime dell'azionario piuttosto che del valutario e così via in modo tale da avere una una storia ovvero una big picture una figura di più alto livello che piano piano nel momento in cui c'è il segnale giusto ci trova pronti ad operare senza essere troppo aggressivi senza forzare la mano senza cercare operazioni dove non esistono pazienza costanza disciplina strategie robuste solide e questo è il trading bene io vi auguro una fantastica settimana noi ci vediamo prestissimo ciao ciao